Bella a tutti grazie a tutti e ben ritornato in un nuovo video Oggi siamo qua su un episodio delle Skywars Ragazzi, praticamente volevo anche parlarvi di una cosa che mi è successa Allora, praticamente guardando nell'ultimo video Non quello di Assassin's Creed ma quello prima Ovvero quello di... Sensor 4 Praticamente è successo che... Non so come ho fatto, cos'è successo, non lo so Guardo e vedo 82 like Adesso so che... Cioè in nessun video l'ho mai raggiunto quindi mi sembra un po' strana come cosa Secondo me è un bug Però comunque se sono veri vi ringrazio veramente tanto Comunque in questo video arriviamo a 35 like Come sempre nelle Skywars Mi pare di averli sempre chiesti Allora non ho armi, non ho nulla Quindi è vero le armi, puttana Eva Ok che uno è già morto praticamente Però se io non ho armi mi sembra sbagliato andare A parte che ho il render basso ragazzi E adesso lo vado a sistemare Sì, quello pensa di arrivarci con la canna da pesca Sì, mo Mo ci arrivi con la canna... Grazie Grazie per avermi fatto salire, puttana Eva Merda Ok ragazzi sono morto Benissimo Io vi lascio picchiare, io vi lascio picchiare Ok ragazzi sono morto Non potevo farci niente, non ho trovato le armi Ok benissimo ragazzi Oh, qua le armi non mancano E già la cosa è buona Già la cosa è buona che non mancano le armi Guarda eh Ok Ok perfetto Vabbè dai buono, buono Ho già l'arco ragazzi Ho già l'arco e me lo faccio subito Tipo proprio con dieci frecce Ci faccio nulla con dieci frecce Però vabbè Sempre meglio che niente ragazzi Sempre meglio che niente Allora quello là Io partirei subito nel shottare quello là Che però se non lo prendo Sono un emerito coglione E beh Ok basta provare a shottare gente che non Vabbè che ciuppa Ok Ok ragazzi perfetto Posso andare su quello Morto Amico mio Mi spiace Va benissimo Dai che mi dà magari un altro diamante Non muore Ma non è morto serio? Ma è morto? Benissimo Adesso ragazzi Io ci proverò A ucciderli tutti e due Se ce la faccio Voglio 35 like Se non ce la faccio Non voglio Cioè Ne voglio 30 Semplicissimi Allora ci provo Ok Non ce l'ho fatta E' vero Lui aveva la Bravo Ok Quindi voglio 30 like Vabbè ragazzi Io direi che appunto Questo video può finire qui Come sempre Iscrivetevi Commentate Lasciate un bel mi piace E Anche se è una partita di merda Chi se ne frega L'ho fatta giusto per Niente Noi ci vediamo Al prossimo video Bella Bella Ciao 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 Ciao